Sì, è una videocamera! Ah, sta a fare il video! Aspetta, aspetta, dimmi! Asciuto! Ma avete messo un video? Forca mia... Ah, muove se... Però, quando riprendo, non scorroni i secondi! Sta arrivando così! No! Non scorroni i secondi, sto in pausa! Ah, muo sta! Muo sta a riprendere prima, fai fu... Ma ti sto riprendendo, eh! Avevo messo in pausa! Aiaiai! Tieni, tieni, tieni!